Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, attese condizioni di bel tempo in Migulia per la giornata di venerdì grazie al rinforzo dell'anticiclone, ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. In dettaglio sull'imperiese attese appunto condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime fino ai 26-28 gradi. Sul Savonese situazione praticamente analoga anche qui contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima caldo ma senza eccessi massimi che non supereranno i 27-28 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno ampie schiarite per l'intera giornata, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature massime che qui si avvicineranno ai 30 gradi. Sul Tigullio il sole continuerà a splendere ovunque con cieli sereni e terzi e temperature massime che qui raggiungeranno punte di 28-30 gradi. E infine per quanto riguarda la situazione attesa sullo spezzino, anche qui il sole sarà il protagonista soprattutto nelle ore centrali della giornata con sole innocue velature di passaggio e massime fino ai 30-31 gradi. Ci attiene una giornata di sabato con condizioni di bel tempo ovunque in Liguria, clima caldo ma senza eccessi e massime, fino ai 26-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è atteso un nuovo peggioramento con il passaggio di piogge e rovesci sparsi e temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebimetero.